La benedizione 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 Cristo Gesù, pur essendo nell'obiezione di Dio, non ritiene un privilegio messico. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, Gesù disse a Nicodemus, Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il suo effetto nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare figli e genitori, perché chiunque crede in lui non vada per questo, ma anche la vita eterna. Dio infatti non ha mandato figli nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di Dio. Parola del Signore. Parola del Signore. Io parlo, che con i sacramenti dell'iniziazione vi ha fatto dono della vita nuova, per la potenza del suo spirito, vi conceda di raggiungere la piena conformazione a Cristo, con la speciale alleanza che Egli oggi stabilisce con voi. Dio, grazie a Dio. Adesso sono stati chiamati a risposto con quell'epidomi che tante volte nella Bibbia abbiamo ascoltato da coloro che si mettono totalmente a disposizione del Signore. Il Signore ha indicato dono posto ai giovani, specialmente i più poveri, come primi e principali destinatari della sua missione. Volete realizzare la missione del nostro fondatore a servizio dei giovani, offrendo generosamente per il loro bene, tempo, doni e salute? Sì, lo voglio, per essere nella Chiesa un testimonio dell'amore e desaubile del Figlio di Dio. Vivere e lavorare insieme è per noi salesiani un'esigenza fondamentale e una via sicura per realizzare la nostra vocazione. Per questo ci riuniamo in comunità. Volete condividere ogni cosa in spirito di famiglia, con i fratelli con cui vivete e essere in comunione con tutti i membri della nostra società? Sì, lo voglio, per poter diventare anche per essi segno di amore e di artemice di un'unità. Noi ci poniamo a segno di Cristo, il quale, casco e povero, redense e santificò gli uomini con la sua obbedienza. Volete offrire definitivamente al Padre la completa disponibilità della vostra vita, obbediente, povera e casca, sull'esempio di Cristo e di Maria, sua madre. Sì, con la grazia di Dio lo voglio, per poter aderire in modo totale a Dio, amarlo sopra ogni cosa, avendo Maria come guida e maestri. Ci alziamo qui. Benediciamo la trinità santissima per il dono manifestato in questi nostri fratelli, che, morti a peccato e rinati a nuova vita mediante il battesimo, si offrono definitivamente a Dio con la professione perpetua, per vivere la grazia battesimale con maggiore vienezza e radicalità. E ora, supplichiamo il Padre, perché, per l'intercessione della Vergine Maria e i santi, effonda la sua benedizione su questi suoi figli, chiamati a seguire Cristo nella via della perfezione evangelica, secondo il progetto apostolico di San Giovanni Posto, e li confermi la speciale alleanza che oggi stabilisce il mondo. San Giovanni Posto, Andrea, ricevi la luce di Cristo e sii luce per tutti coloro che incontrerai sul tuo cammino di consacrato. Dio Padre, Tu mi hai consacrato a Te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù, tuo figlio, che mi chiama a seguirmi tutta luce e condotto dallo Spirito Santo, che è luce e forza. Io, Andrea Berardi, in piena libertà, mi offro totalmente a Te, impegnandomi a donare tutte le mie forze a quelli a cui vi manderai, specialmente ai giovani più poveri, a vivere nella società salesiana, in fraterna comunione di spirito e di azione, e a partecipare a questo luogo, alla vita e alla missione della Tua Chiesa. Per questo io, Vittorio Busco, io, Gabriele Maria Graziano, in piena libertà, mi offro totalmente a te. Per questo io, che di noi, alla presenza del Dio e del Dio, davanti agli ammennati, la Cina, che fa invece del Dio Maggiore della Società di San Francesco di Sanza, di San Francesco di San Francesco, che vi aiutino ad essere credenti. O Dio, principio e forte di ogni santo di Dio, hai tanto amato gli uomini da renderti partecipi nella Tua vita di vita, chiamandoli ad essere santi come tu sei santo. A te sia l'ora e da ogni creatore. Nella tua compidenza dalla stirpe del popolo eredito, hai suscitato, attraverso i secoli, uomini giusti e donne di evidente vita. prima da tutte Maria, la madre del tuo figlio, tu, nella vienezza del tempo, hai inviato il Cristo per la salvezza dell'umanità. Egli è apparso quale splendore della tua santità. Per arricchirci, si fece pollo, e, competente, fino alla morte di croce, ci apri il cammino alla vera libertà dei figli di Dio. Tu, padre infinitamente buono, con la voce interiore del tuo spirito, hai accanto lungo il tempo e numeri figli a seguire tutti avvicinati a Cristo, con l'offerta generosa della volontà, del cuore e di ogni loro bene. Guarda ora questi tuoi figli, che secondo un misterioso progetto di elezioni, hai chiamato e oggi consaglio per una vita nuova. Infondi in essi lo spirito santo indicatore, perché possa far vivere con il tuo aiuto ciò che per tuo dono ti promettono con gioia. Tengano sempre in Cristo lo sguardo sul divino maestro e al suo esempio conformino la tua vita. Rinomi il loro cuore, padre, la carità pastorale di San Giovanni Bosco, padre e maestro dei ricordi, perché in tutto cercano con instanità di loro verosità la salvezza delle anime e il tuo servizio. Risplenda in essi l'obbedienza generosa, la povertà contenta e la castità di brani altri. Ti servano un cuore aperto e cordiale per amarti nel frattempo e lo spirito di iniziativa. Siano pazienti nella prova, salvi nella fede, lievi e audaci nella speranza, semplici e generosi nello slavico storico. Sappia venivare e evangelizzare con la pedagogia della comunità secondo un progetto di proporzione integrale del mondo orientato a Cristo, nuovo perfetto. sii tu, Padre Santo, il sostegno e la guida di questi voi figli. Quando lasceranno questa vita per comparire il tuo inizio davanti al tuo figlio, rendeli inizialmente felici per essere stati fedeli alla tua chiamata e fa che la nove perenne e la gloria dei santi parteciano della piena comunione con te come compimento della speciale alleanza che oggi stabilisce con il loro. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Stimino Santo per tutti i secoli e i secoli. Amen. Carissimi Andrea e Gabriele e Vittorio, a nome della Chiesa e della Società Salerniana vi accorgo come un fratello impegnato e confogli per i vecchi tra i salerniani di Don Bosco e l'abbraccio protetta e ora ci scambiamo. Sia segno di questa comunione di vita. Grazie. Grazie. perché siete i primi dopo il Signore grazie a voi cari giovani nei vostri volti tante tante volte abbiamo incontrato il Signore tramite voi tante volte il Signore ci ha detto coraggio avanti ne vale la pena siamo felici di potervi dire siamo tutti i vostri per sempre aiutateci ad essere fedeli alla frasetta di Don Rua che abbiamo riportato nell'immagine e che troverete in fondo alla Chiesa ve la distribuiranno i luizi non ebbe a cuore altro che le anime grazie a tutti Grazie a tutti.